leggevo il blog di quel comico che fondò il movimento una volta ricordo sul blog c'era una discussione sui resti su quelli che sbagliano a farti il resto tutti che raccontavano la loro esperienza personale il tabaccaio il giornalaio il farmacista il barista che sbaglia a farti il resto tutti erano stati vittime di un resto sbagliato e guarda un po ci fosse mai stato uno di questi signori che aveva sbagliato a farti il resto dandoti più di quel che ti spettava si stai fresco ma che sbagliavano tutti per difetto a uno avevano cercato di fregare due euro a uno addirittura dieci sbagliavano tutti apposta tabaccai farmacisti baristi tassisti per fregarti i soldi ma era arrivato il momento di dire basta loro non ci stavano più a farsi fregare sui resti non erano più soli non erano più atomi spersi nell'universo erano diventati una legione come ti chiami chiese gesù mi chiamo legione perché siamo tanti chissà quante volte avranno sbagliato a farmi il resto oppure a me riflettevo mi avranno fregato milioni e io non ne sono neanche accorto ma no pensavo forse a me non mi hanno mai fregato oppure mi hanno fregato ma non l'hanno fatto a posto oppure qualche volta mi avranno detto di più dato di più e io me li sarò intascati in perfetta buona fede oppure va bene c'è un complotto dei commercianti per distanguarti ma se anche fosse così io stavo meglio quando non lo sapevo stavo meglio fregato e inconsapevole pensavo facevo il programmatore ma avevo studiato filosofia da giovane e avevo smesso proprio per quello lo smascheramento non ne potevo più di quello dello smascheramento tutti i filosofi dello smascheramento hegel schopenhauer marx gierkegaard nitsch che smascheravano questo e quello non ne volevo più sapere che ci fosse altro dietro le apparenze un velo da squarciare un re da denudare un sistema da decostruire un mondo da criticare non volevo saperne più nulla e se non mi interessava smontare la metafisica o il sistema capitalistico il mondo come volontà e rappresentazione o l'ipocrisia del cristianesimo cosa poteva fregarmene di scoprire che il tabaccaio mi aveva fregato 20 centesimi e se anche fosse successo che il tabaccaio mi aveva fregato 20 centesimi cosa potevo cavarne ma poi dai io il mio tabaccaio lo conosco mi dicevo ma è una bravissima persona via però era cominciato da lì credo almeno per come lo ricordo io avevo sentito un saporaccio in bocca poiché la storia dei resti non diceva niente sui tabaccaio sui farmacisti o sui pizzicagnoli come categorie ma diceva abbastanza sull'aria che si cominciava a respirare il bisogno di sentirsi dalla parte dei giusti dalla parte degli onesti e un darsene la patente da soli un saporaccio amaro in bocca che lì sul blog certo si parlava di temi ben più importanti l'inquinamento le tasse i politici corrotti uscire dall'euro come lavarsi le mutande con una pallina di gomma ma era in quel dettaglio in quella discussione marginale sul problema dei resti sbagliati che finalmente legione aveva gridato il suo nome o almeno così era perso a me